Sembra che la situazione sui mercati cripto sia un po' più tranquillizzata che la famosa bank run su Crypto.com in questo momento non sia avvenendo, per fortuna anche perché proprio Crypto.com è riuscita a gestire molto bene la questione in queste ore, ma guardate un po' questa roba qui con Sam che ancora continua a twittare di tutto e di più in maniera ermetica ogni tot ore. Praticamente sembrano dei messaggi programmati, butta via un tweet. L'ultimo è questo qui dove dice che lui dirà che cosa è accaduto ma inizialmente vuole parlare di dove sono in questo momento, ma dove sono non intende fisicamente probabilmente, ma intende dov'è la situazione in questo momento. Sennò che il suo Twitter è esploso a un milione di follower perché moltissimi stanno cercando di capire che fine ha fatto e dove sta andando. Tra le altre cose questa saga, Twitter saga, continua anche su diverse interviste perché sono uscite le interviste sul New York Times proprio di Sam che spiega un po' quello che è successo. La questione di Alamita che si era indebitata con alcuni fondi e poi in pratica gli hanno richiesto i soldi indietro dopo il crash di aprile, maggio, giugno delle criptovalute. Perché loro non avevano i fondi, hanno deciso in quattro di andare a prendere i soldi dei customer per ripagare i creditori cercando poi magari altri prestiti che non hanno mai trovato e poi è scoppiato il patatrack. Sembra che questa sia la ricostruzione più attendibile, ancora non si sa nulla se questi fondi siano recuperabili. Sibo cifra in giro che ci siano dei fondi europei ed è possibile fare domanda per i fondi europei. Adesso si vedrà man mano che andrà avanti questa situazione ragazzi. Detto questo direi che per oggi sulla questione caso di FTX sia basti così ragazzi perché oggi volevo parlarvi di quello che sono i grafici. Quindi oggi andiamo a fare i grafici perché il mercato si sta un po' riprendendo e quindi andiamo a vedere un po' la situazione. Ovviamente ragazzi è un piccolo rimbalzo da livelli veramente molto bassi quindi non è che cantiamo vittoria. Però ci sono delle cosette che si possono andare ad analizzare perché ci sono delle scadenze cicliche come vi dicevo nel video di ieri dove vi ho lasciato ieri che sono assolutamente molto interessanti da andare a vedere. Prima però di tutto ciò voglio la vostra attenzione o almeno vorrei la vostra attenzione perché devo darmi una super notizia perché la settimana prossima giorno 22 di novembre in vista dell'opening delle offerte Black Friday ragazzi facciamo un super webinar dedicato esclusivamente al trading intraday delle criptovalute. Allora volevo un po' dare qualcosa di nuovo alla community anche in una fase del genere è anche vero che in questo frangente non si capisce bene dove andare a fare trading su quale exchange ma comunque poi questo magari facciamo un video dedicato. Però ho deciso di svelare quelle che sono state le strategie che ho utilizzato negli ultimi contest di trading ironia della sorte fatti su FTX ragazzi perché aveva la piattaforma top ovviamente e ci permetteva i future visto che Binance non lo permette in Italia. Allora in pratica sono andato a utilizzare questa strategia ragazzi con le quali mi sono classificato ai top nei due contest e ho deciso di parlarne proprio in questo webinar. Quindi qui vi lascio in descrizione tutto quello che vi serve per registrarvi il webinar sarà ovviamente gratuito e saranno anche presentate quelle che sono le offerte Black Friday per il corso Basic 2 che avrà due novità importantissime di cui una già ve la svelo in maniera molto chiara che sono le lezioni relative proprio all'analisi ciclica. E in più ci sarà appunto questa lezione del webinar proprio che spiega la strategia di trading in trade che ho utilizzato strategia che ragazzi è la mia una delle mie personali quindi non è una strategia fatta per il webinar ma è proprio quella che io utilizzo anche ogni tanto quando ormai raramente purtroppo riesco a fare trading perché sono sempre qui con voi sul canale. Quindi vi registrate gratuito il webinar e noi ci vediamo il 22 poi ve lo ricordo comunque anche negli altri video alle ore 18 per questa per questo evento ragazzi quindi sono molto contento di parlare di questa cosa sarà un po' complicatuccio ve lo dico perché non è una strategia banalissima e quindi venite preparati come si suol dire venite mangiati no? Venite preparati vabbè detto questo allora vi andiamo ad analizzare quelli che sono i grafici ragazzi partiamo subito da Bitcoin che è un po' più chiaro questa volta di Ethereum stranamente di solito il contrario perché che cosa è successo qui ragazzi? Probabilmente nel minimo del giorno 9 di novembre è stato chiuso un ciclo mensile anticipato leggermente di Bitcoin ci sta perché con un crash del genere è assolutamente normale che i cicli vadano leggermente ad accorciarsi era partito qui nella zona del 9 di ottobre dovevamo chiudere intorno al 15 di novembre anticipato qualche giorno proprio per il crash che ci sono stati di grandissime entità in termini di prezzo probabilmente siamo andati a fare il vero minimo il 9 di novembre anche se vedete poi come appunto proprio nella metà di novembre abbia tentato di fare questo doppio minimo proprio perché la fase temporale indicava in questo frangente di novembre proprio quella che era una fase molto importante di un possibile una possibile creazione di un minimo detto questo il mercato da qui è iniziato una fase di recupero che però al momento si chiude in una figura di trading range con una leggera possibilità di avere un trend positivo solo al di sopra di questo livello qui ragazzi almeno in close cioè dei 17.600 ma comunque è veramente al di sopra di questo livello incontra poi quelle che sono le due medie che ormai avete imparato a conoscere la 21.11 che uso su questo grafico che sono delle medie che in questo momento funzionano da resistenza al mercato in sostanza ragazzi l'unico dato positivo che possiamo vedere da questo atteggiamento è proprio il dato ciclico che ci indica che da qui è iniziato un nuovo ciclo mensile di bitcoin che potrebbe appunto spingere il famoso rally di natale rally di natale che potrebbe appunto avvenire proprio fino alla struttura dei mesi allora qui ci sono poi una serie di considerazioni del mese di dicembre scusate ragazzi stavo pensando all'alta voce allora qui ci sono poi una serie di considerazioni da andare a fare relativamente alla struttura ciclica perché a meno di cose stranissime ragazzi ethereum non ha fatto un nuovo minimo in queste giornate però che oggi è proprio 15 quindi aspetterei il weekend però nel momento in cui ethereum non fa un nuovo minimo è difficile che il ciclo annuale di bitcoin sia effettivamente stato chiuso su questo minimo di novembre a livello temporale ci siamo e siamo nell'ottica proprio di quello che era una struttura ciclica annuale che noi già ci aspettavamo vediamo se riesco a prendervi un'analisi di bitcoin più a lungo così vi faccio comprendere su un grafico diciamo più a lungo periodo eccolo qui allora noi ci aspettavamo questa questione legata alla possibilità che dal minimo di luglio qui si potesse fare vedete un ciclo annuale 476 giorni perfettamente in linea con quelli che sono i cicli annuali precedenti di bitcoin tutto conforme vi ho fatto vedere il grafico di ieri anche sulle altcoin però non torna ethereum questo è il vero problema ragazzi non torna ethereum ether non ha fatto questo minimo ve lo faccio di vi faccio vedere anche ether ecco vediamolo qui e l'ha fatto in maniera precoce diciamo qui che insomma ragazzi o vedete ha iniziato un ciclo annuale prima però è troppo sconnesso da bitcoin sembra quindi che alcune crypto non solo ether proprio c'erano tantissime crypto abbiano iniziato una nuova fase ciclica in questo punto nella giornata nel mese di giugno perché se ethereum avesse fatto un nuovo minimo in questo frangente ragazzi allora potevamo considerare anche un ciclo annuale sulla regina delle crypto che potesse strutturarsi in chiusura proprio in questi mesi questo era meglio come vi dicevo all'inizio dell'anno in pratica era meglio per i mercati delle crypto avere una chiusura ciclica annuale nei mesi di novembre piuttosto che un ciclo annuale che è chiuso diciamo a giugno che però portava grandi problematiche perché? perché teoricamente quello di bitcoin è già crashato a ribasso questo significa che si scende fino al prossimo anno e visti i livelli di prezzo che bitcoin ha raggiunto in questo momento la questione è veramente critica quindi una cosa del genere sarebbe sicuramente la prima volta che avviene su bitcoin e se i grafici e se i prezzi confermeranno questa view il prossimo anno continueremo a soffrire magari sarà una barra di congestione o meno ma la questione non si fermerà qua quindi il ciclo annuale dove è chiuso il ciclo annuale è molto importante ragazzi in questo momento perché è difficile andarlo a comprendere quindi come vedete la questione di ethereum è anomala rispetto a bitcoin perché abbiamo un bitcoin che ha fatto una struttura ciclica che potrebbe coincidere con questo minimo ed aver chiuso il ciclo annuale proprio a novembre ci stava e anche la forma del ciclo è molto pulita con i cicli ternali classici di questo mercato quindi ci sta ragazzi coincide anche con la durata del bear market precedenti tra massimo e minimo è tutto lineare, tutto preciso l'unica cosa che non coincide è eth quindi è successo qualcosa è vero che c'è stato ad ethereum un cambio radicale di struttura di fondamentali perché è passato con il merge al proof of stake però io mi tengo ancora ragazzi la ipotesi sotto mano che giugno sia stata la vera chiusura del ciclo annuale e che a quel punto bitcoin abbia un annuale negativo perché se è vera questa cosa noi faremo dei rimbalzi solo per poche settimane e saranno sempre solo dei rimbalzi non dei cambi trend ragazzi e questo è la verità e dovremmo appunto vedere questa cosa quindi al di là del fatto che io comunque salirò sul carro del trend follower long se bitcoin dà dei segnali però è ovvio che se qui è stato chiuso un ciclo annuale qui non aveva breccato neanche qui ragazzi ma con le giornate dell'altra volta quindi dell'89 e quindi questo significa che a questo punto o anche una cosa del genere anche volendo recuperare con una struttura così poi dovremmo andare in ogni caso ad avere una chiusura annuale che fa una cosa del genere e non è per niente bello quindi intanto andiamo a cercare di capire dove questo nuovo mensile che questo diciamo è un dato più o meno quasi certo diciamo perché sono passati 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni diciamo che qui un nuovo ciclo mensile è abbastanza probabile andiamo a vedere quello che crea e dove va a confluire e poi vediamo se effettivamente questo rally di Natale avverrà perché da un certo punto di vista le crypto sono deboli per la questione che li ha toccate ragazzi ma i mercati hold non sono deboli tanto è vero che Nasdaq vi faccio vedere ha una struttura che sta tentando proprio di configurare un primo swing decente ora c'è anche da dire vedete qui io vi ho messo diciamo là il punto finale di un famoso rally di Natale per indicare che questa è tutta un'area buona in questa zona qui dalla chiusura del mensile di Nasdaq che dovrebbe venire a fine mese di novembre quindi fra una decina di giorni in poi in questa zona si può configurare un massimo di periodo in questa zona qui ora massimo di periodo che potrebbe avere anche le gambe corte su Nasdaq perché se anche Nasdaq ha chiuso il mensile l'annuale a giugno come molto probabile ragazzi questa zona qui indica che in pratica stiamo facendo solo un leggero rimbalzo per poi andare a configurare una nuova fase di ribasso e la chiusura vera dei cicli annuali dei mercati hold verso aprile maggio del 2023 in sostanza tutto dipende da questa struttura ora Nasdaq ha la probabilità molto alta che il ciclo annuale sia iniziato a giugno e sia ribassista è anche vero che la questione inflattiva comunque sembra stia rientrando entrando e ci sono anche i colloqui di pace diciamo con i cinesi e la Russia c'è stato Biden insomma che è andato lì vediamo un po' cosa succede ragazzi perché poi alla fine ok i cicli però in ogni caso noi dobbiamo sempre andare un occhio di riguardo a quella che è la situazione anche perché può essere che si faccia un ciclo in barra di congestione non è detto che si faccia un nuovo minimo un crash come quelli che abbiamo visto quindi possiamo magari ballare su e giù da qui per i prossimi mesi che poi non è neanche tanto male per far riassorbire un po' tutta la situazione in ogni caso come vedete anche tra questo minimo e questa zona di minimo Nasdaq ha aggiornato ragazzi ma pochissimo vedete quando io vi dico che c'è la cosiddetta possibilità di fare barra di congestione questo è un ciclo a ribasso però è definibile un ribasso leggerissimo quasi neutrale quindi nulla vieta al mercato di continuare a fare una cosa del genere e poi scendere magari capito fare una serie di doppi minimi e chiudere qui una struttura temporale perché aveva bisogno di tempo per riassorbire eventuali accessi o che che sia quindi non è che è detto che andiamo a crashare e facciamo un big crash ragazzi va bene non è così quindi potrebbe essere una fase altarenante che però può portare i mercati diciamo in maniera con respiro ai mercati ecco diciamo così solo ed esclusivamente un superamento di questa linea verde 13.790 sul Nasdaq stancisce un nuovo annuale iniziato qui e secondo me solo se Nasdaq ha un nuovo annuale iniziato qui dovremmo valutare la possibilità che anche Bitcoin l'abbia chiuso proprio nelle scorse giornate perché con la non unione non sincronia diciamo così di Ethereum non abbiamo possibilità di comprendere se Bitcoin stia seguendo più il suo mercato di riferimento quindi le cripte sia un po' più il re in questo caso oppure sia più dipendente da Nasdaq si sono un po' complicate le questioni ed è giusto tenere in considerazione tutte queste evenienze perché altrimenti facciamo un po' secondo me siamo un po' troppo superficiali quindi ragazzi io come sapete cerco di semplificare il più possibile il tutto ma non sempre è possibile farlo in modi veramente banali quindi se poi vi vado a banalizzare la situazione è sbagliato da altri punti di vista quindi a livello operativo la soluzione per me è andare mese per mese in questo momento ad operare questo è un nuovo ciclo mensile potrebbe darci buoni risultati per un rally di Natale che potrebbe esserci quindi al momento la mia idea è sempre quella di cavalcare un eventuale trend a rialzo poi questo trend a rialzo continuerà e diventerà megagalattico ben venga ma non penso sia così ecco questo è quello che vi sto dicendo e quindi secondo me in questa fase dopo appunto due anni ragazzi in cui il buy and hold è stato un disastro totale ormai questo lo avete penso compreso un po' tutti quanti anche in questo periodo secondo me fino al 2023 non c'è trippa per gatti e di burran proprio come le precedenti che vanno su non si vede neanche l'ombra al momento quindi secondo me bisogna agire molto più di tecnicismo e di formazione sul trading e badate bene non parlo di trading intraday come la strategia che vi spiegherò la settimana prossima ragazzi parlo di trading anche per uno o due mesi però sempre con l'approccio di chiuderla un'operazione questo intendo non lasciarla in portafoglio ad libdom fino alla fine dei tempi perché probabilmente il mercato sarà ancora troppo pericoloso poi alcuni di voi amano le montagne russe e nulla vieta di fare queste cose ma è sbagliato dal punto di vista di gestione del rischio di gestione degli investimenti come avete visto ragazzi il mondo dell'eclitto è estremamente complesso da valutare e i rischi sono inziti veramente in ogni dettaglio in ogni angolo senza che noi possiamo rendercene conto quindi questo è fondamentale io la vedo ancora così questo mensile può essere un mensile positivo per i mercati mi aspetto questo fine settimana perché se Ethereum crolla succede qualcosa perché qui con SBF che non si sa che cosa combina mette in vendita 12 milioni di Ethereum e fa crashare Ethereum non lo so ragazzi devo per dire allora fa un minimo anche Ethereum allora magari poi le analisi di oggi le cambieremo però al momento quello che io vedo è che bisogna andare in timing in time frame più stretti nei mercati in questa fase non fate buy the dip perché è proprio quello che sembrerebbe che abbia fatto alla vita per fallire totalmente quindi immaginate un po' e non è la sola perché se anche guardiamo grandi investitori come Michael Saylor per esempio i ragazzi ha quasi 2 billion di perdita con il suo body dip su Bitcoin e Bitcoin e Bitcoin figuriamoci altre cose quindi mi raccomando valutate sempre queste cose con il beneficio del dubbio ricordatevi che le soluzioni semplici non sono mai quelle migliori nei mercati finanziari ricordatevi che non fare niente non è mai una soluzione nei mercati finanziari dovete sempre approfondire un minimo io ve lo dico ragazzi veramente come buon parate in famiglia perché dal 2018 sono un po' la voce fuori campo da questo punto di vista trend is your friend non andate contro trend perché fate gambling quindi poi alcuni di voi amano fare queste cose lo ripeto siete liberissimi di fare quello che vi pare io non comprerò mai ai minimi però almeno diciamo mi proteggo non mi proteggo da un fallimento è una truffa di un exchange però quella è un'altra cosa non è strategia di training ragazzi quella è una truffa che è tutt'altro va bene quindi questo è un po' il mio consiglio merce per mese questo mensile di bitcoin vediamo dove ci porta io lo traderò long e lo traderò long anche su Altery Crypto perché stiamo facendo un portafoglio unico in Academy vogliamo fare questo tentativo per vedere se ci sarà il rally di Natale ovviamente stop loss inserito questo ve lo dico già chiaramente perché essendo un'operazione di trading non la lasceremo certamente scoperta se i mercati girano amen perdiamo e chi si è visto ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti ragazzi vediamo se SBF tira fuori il dodicesimo tweet senza senso ciao